Su Electrolux sono novità? Purtroppo no, purtroppo su Electrolux novità salienti non ce ne sono, si vocifera di questo summit nazionale a Palazzo Chigi ma tutt'oggi non abbiamo notizie, io spero lo si faccia, siano coinvolte le parti sociali, l'azienda e ovviamente i quattro governatori che hanno chiesto da subito, ancora un mese e mezzo fa, di poter avere questa convocazione. Evidentemente Electrolux non è un'emergenza nazionale, cioè un gruppo che ha 6.000 lavoratori in Italia, ne sta per sostanzialmente mettere in discussione 1.600 posti di lavoro, non è un'emergenza nazionale e poi ci riempiamo tanto la bocca di occupazione, occupazione, occupazione.